Quando scattiamo le nostre fotografie vogliamo ridurre il più possibile il rumore digitale e quindi terremo i valori ISO più bassi possibile per avere potenzialmente zero rumore nelle nostre foto. Oppure no? Nel corso del video di oggi vado a farvi vedere degli esperimenti che ho fatto andando a lavorare esattamente in senso opposto. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni, sono uno di voi, nel senso che anch'io ho sempre cercato di avere un'immagine più pulita possibile quindi scattando con gli ISO più bassi possibile. Questo è corretto perché quando io scatto con valori ISO più bassi minimizzo la presenza di rumore digitale nella mia foto e soprattutto massimizzo la gamma dinamica. Quindi avrò un'immagine che potrò maltrattare in post produzione e potrò aggiungere della grana dopo e potrò aggiungere del contrasto dopo ma parto da un'immagine più pulita che quindi mi consente di tenerla pulita o di sporcarla mentre un'immagine che parte sporca o con una gamma dinamica diminuita è più difficile da riportare indietro. Nel corso di questo video però vi farò vedere che cosa succede quando si lavora esattamente in senso opposto. Andando quindi ad aumentare di proposito i valori ISO proprio con l'obiettivo di aumentare il contrasto e introdurre della grana all'interno della nostra immagine ovviamente con un obiettivo in mente per uno scopo ben preciso. Prima di andare a vedere dei succosi esempi ricordo a tutti quelli che non l'avessero ancora fatto di iscriversi subito al mio canale. Tutti quelli che lo faranno avranno una conoscenza molto più ampia in materia fotografica e sapranno decidere se vogliono aumentare i valori ISO per un motivo ben preciso oppure se vogliono rimanere su valori più bassi avere quindi delle immagini più pulite. Parliamo un attimino della strumentazione. Per fare le fotografie che vi mostro oggi ho utilizzato Canon EOS 550D una fotocamera vecchia con una gamma ISO abbastanza ridotta e l'ho fatto apposta perché così lavorando a ISO 6400 ho una fotografia bella rumorosa. Ora andiamo a vedere la fotografia scattata prima con ISO bassi e poi con ISO alti. Ovviamente scattandola con ISO più alti ho diminuito di parecchio i tempi di scatto e questo ha creato l'effetto che vedete ovvero ha cristallizzato le gocce d'acqua che stavano precipitando dal cielo. Era un temporale abbastanza forte abbastanza intenso quindi l'idea mi è venuta proprio perché era il crepuscolo stava venendo buio e quello che io volevo ottenere era di cristallizzare le gocce d'acqua. Non avevo in mente di alzare gli ISO. Alzare gli ISO è stata una conseguenza del fatto che mi serviva velocità. Mi serviva scattare molto in fretta per cristallizzare quel tipo di precipitazione. Il risultato che mi sono trovato mi ha convinto a proseguire in questa direzione e quindi chiudere anche il diaframma per aumentare gli ISO ancora di più. In questa maniera il risultato che vi presento oggi è questo. Come potete vedere stiamo lavorando prevalentemente in bianco e nero perché questa è un'idea che secondo me si presta molto bene al bianco e nero e attenzione sapete bene che io non amo il bianco e nero a meno che non ci sia un motivo molto forte. In questo caso i motivi molto forti sono due. Primo queste sono silhouette con con un rumore molto forte ovviamente voluto l'ho fatto apposta. Sono silhouette con un rumore molto forte e quindi il bianco e nero da un lato mi toglie la crominanza mi toglie tutto il rumore di crominanza che era molto presente. Quindi il primo motivo è questo. Il secondo motivo è che essendo silhouette diciamo che il bianco e nero si presta bene a enfatizzare esasperare ancora di più il contrasto tra questo cielo chiaro e le silhouette dei palazzi che sono oscure. Inoltre visto che stiamo lavorando con un noise molto presente metterlo in bianco e nero mi riporta un po' indietro a quella sensazione di fotografia un po' vintage. La cosa funziona non funziona io qui non farò il giudice di me stesso ma chiedo a voi fatemi sapere in un commento come la vedete se questo tipo di approccio funziona. Per la verità io ho in mente di lavorarci su questa cosa perché il rumore personalmente comincio a vederlo non più come un nemico da sconfiggere ma anzi come un qualcosa che in qualche maniera dà personalità alle mie fotografie. Proprio com'era il rumore della pellicola una volta oggi il rumore digitale secondo me è l'unica cosa che separa una fotografia dall'intelligenza artificiale almeno per l'osservatore non evoluto. Nel momento in cui vediamo una fotografia perfetta stra patinata pensiamo subito che sia finta. Questa è una cosa ho letto anche un articolo a questo riguardo e forse c'è anche forse c'è anche un video di Rick Duferre che vi consiglio di andare a recuperare proprio su questi temi ma non sono sicuro. Il tema è proprio che nel momento in cui tutto è falsificabile le fotografie vere passano in secondo piano perché quando vediamo una cosa fatta bene la reputiamo falsificata perché siamo abituati a vedere fotografie falsificate. Ecco che in questo caso introdurre del rumore in macchina in questo caso perché l'ho fatta davvero ma anche introdurre del rumore in una foto fatta con l'intelligenza artificiale se è per quello. Facciamo la nostra foto finta con l'intelligenza artificiale poi mettiamo un po' di noise così sembra più vera. All'occhio di un osservatore disattento questa è una cosa che secondo me potrebbe diventare una cifra stilistica distintiva per farci capire che cosa è stato scattato realmente e che cosa no. Personalmente credo che andrò a puntare un pochino in questa direzione in futuro ovviamente con un po' di ragionamento nel senso che non andrò a mettere noise dentro in una foto di prodotto in una foto di interni però in un ritratto potrebbe in una fotografia delle vacanze o paesaggistica potrebbe in una fotografia di reportaggio di concerto sicuramente ci sta anche bene. A questo punto amici vi chiedo fatemi sapere nuovamente qui sotto in un commento che cosa ne pensate del rumore del digital noise come decorazione come abbellimento per le nostre fotografie quindi non più il nemico da sconfiggere ma forse addirittura un graal da rincorrere perché per ottenere un certo tipo di look e certo è vero ci sono magari delle simulazioni di pellicola ci sono dei preset con cui possiamo andare a ottenere lo stesso risultato in post spesso e volentieri è meglio ottenere questo risultato in post per due motivi il primo motivo è che abbiamo la foto pulita e poi possiamo farci quello che vogliamo la possiamo sporcare come vogliamo ma abbiamo l'originale pulito il secondo motivo è che avendo l'originale pulito possiamo sporcarla quanto vogliamo mentre quando lo stiamo facendo in macchina e in macchina non è sempre facile capire di quanto la stiamo sporcando capire di quanto stiamo introducendo rumore di quanto siamo sopra non è facilissimo da capire ci vuole un po di pratica mentre se la facciamo pulita poi a computer è semplice dire va bene la sporco di tot e mi creo anche un preset quindi poi le sporco sempre tutte nello stesso modo è più semplice però io credo che ci sia più gusto nel farlo direttamente in macchina personalmente mi sono divertito a scattare queste foto del temporale e mi piace anche il risultato e vi dirò di più questa è una cosa che per molti potrà non significare niente però queste foto sono state accettate anche per microstock quindi anche se sono palesemente scattate passatemi il termine in maniera sbagliata infrangendo le regole io ho messo nella descrizione fotografia con rumore alto otturatore rapido ho fatto capire nella descrizione che l'ha fatto apposta sono state accettate così in bianco e nero molto rovinate sono state accettate dalle piattaforme di microstock quindi questo significa che forse anche loro si stanno rendendo conto che avere sempre tutto perfetto pulito e patinato elimina la varietà e quindi forse andare verso un tipo di fotografia un po più un po più ruspante come questa potrebbe non sempre ovviamente certe volte poche però qualche volta potrebbe mettere un po di pepe sui nostri lavori fotografici per cui io vi consiglio di provare ma in realtà il consiglio migliore che vi posso dare quello di iscrivervi al canale cliccando subito il bottone qui sotto perché se avete visto il video fin qui e non l'avete ancora fatto questo è l'ultima occasione che ho per ricordarvelo vi ricordo anche di rimanere sintonizzati perché arriveranno presto nuovi contenuti io vi ringrazio per essere rimasti con me fino a qui e vi do appuntamento al prossimo video Grazie. 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 Grazie.